Di nuovo in diretta Paolo Cento Federico Ghirardi e con noi ospite il presidente del quinto municipio Evano Caradonna e gli lanciavo questa provocazione che non è solo provocazione perché si parla sempre del traffico ma non è che possiamo ripetere le cose come se niente fosse cambiato. La crisi ha cambiato i comportamenti anche sulla mobilità dei cittadini romani. Il traffico privato a me pare che sia in forte calo, il problema è che manca il trasporto pubblico, manca l'alternativa. O sbaglio, oppure in realtà dovremo fare i conti anche nella prossima legislatura. Io vedo via Tiburtina, quando lo dico sempre, esco da qui quando finisco alle 13 nei giorni della settimana tranne il mercoledì che sono di pomeriggio e la Tiburtina è un deserto. È vero, ma infatti le tue riflessioni Paolo sono corrette, sono reali e sono di questo momento. Però certo noi dobbiamo fare un ragionamento in due tempi, cioè quello di oggi hai ragione tu, c'è bisogno di più trasporto pubblico, però sai fino a che un'amministrazione, pensa a quella di Alemanno con l'assessore Ghera, che durante i lavori di adeguamento in sede della Tiburtina... Sono andate molto d'accordo, tra l'altro interviene spesso nel quinto municipio l'assessore Ghera. Ma finché interviene, il problema è che molte volte... Sarà una bella sfida, su chi prenderà più voti nel quinto municipio, tra il presidente Caradonna e l'assessore Ghera. Preferirei prendere qualcuno di più su Roma complessivamente da essere eletto, che perire nel quinto municipio... Al di là delle sfide... No ma io prendo atto di una cosa, lui interviene, interviene spesso, a volte io dico, meno male, perché se si fanno più strade sono contento anch'io perché stanno meglio i miei concittadini. Il problema è che molte volte interviene sulla stessa strada più volte e interviene anche male, perché evidentemente gli interventi non sono fatti come si dice a regola d'arte, ma su una decisione, e non è perché io ce l'ho con Fabrizio Ghera, assolutamente, non è un problema neanche di antipatia personale, che è stato quattro anni consigliere con me, abbiamo avuto rapporti anche civili, quindi non è questo il problema. Il problema è un altro, è che se penso all'allargamento della diburtina, quando per due anni, noi siamo partiti con l'inaugurazione con Beltone nel 2006, per due anni è stato fermo per un contenzioso giudiziario per la seconda impresa, c'era nel progetto il corridoio della mobilità al centro della carreggiata, che avrebbe consentito ai cittadini di Sette Camini, di Case Rosse e dell'Interna di Roma di poter prendere il trasporto pubblico a via Casalbianco, via Marco Simone, ed arrivare in protezione, col trasporto pubblico protetto all'ultima stazione della metropolitana, beh, la prima decisione che ha assunto è stata quella di rimettere mano al progetto, di mettere il corridoio sulle laterali, quindi potete immaginare, quindi in promiscuità col trasporto privato, significa che il trasporto pubblico non sarà mai preservato e arriverà sempre tardi all'appuntamento, e quindi è evidente che i nostri concittadini e quelli dell'Interland, quelli che verranno da Tivoli, da Guidonia, se guideranno a prendere la macchina, ma staranno in fila e ci metteranno ancora ore e ore per arrivare. Io la riflessione tua Paolo la condivido, perché questo è purtroppo il termometro di una condizione economica di difficoltà, per cui la gente cerca o esce di meno o prende meno trasporto privato. Però noi dobbiamo pensare ad un Paese che sia rimesso in carreggiata, quindi un Paese che abbia comunque le infrastrutture adeguate. Guarda, quando parlo di infrastrutture non parlo di allargare strade, perché tanto più le allarghiamo e più le riempiamo, ma di un sistema di trasporto pubblico che si è integrato, dove il trasporto sul ferro, la famosa curra sul ferro di Tocciana Memoria, insomma andrebbe ripresa con più vigore. La stazione Tiburtina, che ancora lì sembra davvero una cattedrale non utilizzata, sembra terra di nessuno. Allora, bisognerà riprendere con forza e con vigore una battaglia e un programma, un progetto sul trasporto che protegga i più deboli, io la metterei così, che protegga coloro i quali sono costretti a prendere il trasporto pubblico. E oggi, se pensiamo sugli autobus, chi ci sale? Ci salgono tanti concittadini italiani e extracomunitari che sono costretti a subire un trasporto pubblico inadeguato, indecente. ATAC, io spero che ci sia una nuova stagione, non tanto di assunzioni clientelari, così come ce ne sono state, ma soprattutto un ATAC o comunque un'azienda di trasporto che sia in grado di poter programmare il trasporto pubblico, di migliorarlo e di aiutare i cittadini a vivere bene nella propria città. Allora, questo io credo che sia uno degli obiettivi che per quanto mi riguarda mi impegnerò, se sarò eletto, a perseguire. Chi teme di più tra il Movimento 5 Stelle, l'Avvocato De Vito, candidato a sindaco, Marchini, candidato della lista civica, Alemanno, sindaco uscente, come coalizioni? Chi è l'avversario vero del centro-sinistra? Ma l'avversario vero del centro-sinistra è certamente l'attuale sindaco di Roma, cioè chi ha danneggiato Roma. Per quanto mi riguarda il vero avversario non può che essere chi ha dimostrato incapacità di governo. Quindi al ballottaggio prevede Marino, Alemanno? Io al ballottaggio sono preoccupato del ballottaggio. Sono fortemente preoccupato perché se si arrivasse a un ballottaggio Marino-Alemanno sono certo che i cittadini di Roma non potranno premiare un sindaco inefficiente e quindi la vittoria potrebbe davvero essere per Ignazio Marino. Mi preoccupa il fatto che si possa arrivare al ballottaggio con un candidato altro, quindi non il sindaco, ma in quel caso 5 Stelle, e arrivare al ballottaggio tra centro-sinistra, tra Marino e l'Avvocato De Vito De Vito è la mia preoccupazione che possa esserci una polarizzazione in negativo da parte di tutti coloro i quali non vedono o potrebbero non vedere di buon occhio un governo di centro-sinistra. L'effetto Parma. L'effetto Parma. Io di questo sono preoccupato e sono ancora più preoccupato di quello che sta accadendo proprio in queste ore, in questi giorni, all'interno di un partito, un partito importante, il Partito Democratico, che non può che essere il partito di riferimento della coalizione. Senza il Partito Democratico non si va da nessuna parte, ma soprattutto non si vince a Roma. Alla io quello che chiedo ai gruppi dirigenti del Partito Democratico, responsabilità e saggezza. Abbiamo un ascoltatore, mi dicono dalla regia, in collegamento, io gli darei la linea e vediamo cosa ha da dirci. Pronto? Pronto? È pronto, buonasera. Stavo sentendo questo dibattito, sono Rosanna. Buonasera. Della Piana del Sole, buonasera. Buonasera. Comunque stavo sentendo che praticamente Ignazio Marino sarebbe qualcosa di più di Alemanno. Io sinceramente i problemi di Alemanno vengono da lontano, vengono da Rutelli, vengono da Veltroni, che non hanno messo un chiodo per Roma e praticamente gli hanno dato proprio una discarica. Adesso che Marino dà chirurgo al Policlinico Umberto I, dà senatore per il PT e non la mollano proprio, non la mollano. Cioè a me sinceramente non è che mi interessi nessuno, come il fatto del Presidente della Repubblica, nessuno ha proposto l'abbonino che sarebbe stata l'unica donna, l'unica persona, neanche donna, l'unica persona presentabile in Italia per fare il Presidente. Perciò di nuovo non ci sarà mai niente, ma sarà il vecchio, più vecchio del vecchio. Posso? Posso? Sinceramente. Posso? Sì? Sulla candidatura dell'abbonino, la domanda al Presidente Caradonna, perché è un esponente dei socialisti italiani che sono l'unica forza politica, vero Presidente, che ha candidato l'abbonino alla Presidenza della Repubblica. Ma è un personaggio troppo scomodo l'abbonino, non è corruttibile, non è stata corrotta, una persona troppo integerrima. bisogna sempre far fare il giro delle poltrone e io sinceramente fra Alemanno e Marini preferirei anche un Alemanno, perché Marini non lo sento una persona, è solamente un continuare ad essere, va bene, comunque in bocca a lui che si riuscirà. Grazie, grazie alla nostra ascoltatrice, cara donna, un commento alla nostra ascoltatrice, ha espresso un'opinione e la ringrazio, perché ovviamente noi vogliamo che ci sia quando abbiamo ospiti, soprattutto in questa fase di campagna preelettorale, poi quando ci sarà la campagna elettorale il dibattito deve essere franco, vivo e quindi benvengano gli ascoltatori anche che dicono esattamente l'opposto in modo civile dei nostri ospiti in studio. Ma assolutamente sì, sono opinioni legittime, dalle quali io mi prendo le distanze e mi perdonerà la signora che ci ha chiamato. Lo posso dire da amministratore di questa città che si è fatto tre sindaci, per cui sia Rutelli, sia Veltroni, sia Alemanno. Però fammi dire, Veltroni non è stato un buon sindaco per Roma, mentre io ritengo Rutelli, soprattutto i Rutelli della giunta 93-97, un momento positivo per la città, io le giunte Veltroni francamente non mi hanno lasciato un buon ricordo, sono sincero. Certo, indubbiamente, ma sei uomo sincero da sempre, chi ti conosce questo lo sa, non non metti mai il tuo pensiero e meno male, e viva Dio. Poi mi hanno dato anche una radio dove parlare, quindi la posso dire tranquillamente tutti i giorni con la stessa cadenza. E questa cosa appunto non andava fatta quella di darti una radio, però ormai è accaduto e ne paghiamo le conseguenze. No, insomma, nel senso, certamente il primo Rutelli, noi ricordiamoci che Roma usciva dagli scandali, gli scandali intermetro, non ricordo che si fece la piazza Pietralata e qualcuno volle dire, pensò ad intitolare la piazza del risarcimento, che erano appunto i soldi derivati da una tangente, anche se poi non era esattamente una buona idea, tant'è che non si realizzò, perché oggi è la piazza di Pietralata. Certo, quindi noi venivamo da una Roma che era sulle pagine dei giornali, era sui tribunali ed era un'altra Roma. Il primo Rutelli fu davvero un quadriennio spettacolare, dove davvero si rimese in campo la città, le idee, i programmi e durante Veltroni, anche se non nascondo in quegli anni, sai Paolo, per me sono stati gli anni in cui sono stato eletto presidente nel 2001, quindi il primo Veltroni lo ricordo con affetto, anche se devo dire, hai ragione tu per alcuni aspetti, perché poi Veltroni portò a compimento tante intuizioni e opere di Rutelli, a cominciare dall'Auditorium, l'Auditorium è un esempio di quanto fosse stata importante la prima consigliatura Rutelli, che fu davvero la scuola di pensiero che iniziò a illuminare la città di Roma, però signora me lo consenta, cioè non c'è un'idea guida. Guardi, noi possiamo parlare negli anni centrosinistra con i dovuti pesi Rutelli-Veltroni, come diceva Paolo, però possiamo parlare dell'Auditorium, possiamo parlare della Casa del Cinema, possiamo parlare di tante opere realizzate, il sottopasso di Castel Sant'Angelo, il sottopasso che ci porta a Roma Nord, ma davvero tanti interventi infrastrutturali, ma anche di tipo culturale, interventi nelle periferie, ce ne sono state, tutta la vicenda delle zone ex O, dal punto di vista urbanistico e tanti tanti altri interventi. Con Alemanno, io signora, la invito a riflettere su un dato, una idea guida, ce n'è stata una, quella della Formula 1 che si doveva tenere all'euro, dopodiché anche quella per problemi che non derivavano dal centrosinistra, ma di altra natura, il Gran Premio non si è fatto. L'ospite di questo pomeriggio, Ivano Caradonna, e parlavamo dell'abbonino, perché Rosanna, la nostra ascoltatrice di Piana del Sole, diceva perché non hanno fatto l'abbonino presidente? Ce lo chiediamo anche noi, perché l'unico gruppo che in Parlamento ha sostenuto e ha proposto come Presidente della Repubblica che poteva rappresentare davvero il nuovo, una donna e soprattutto, come diceva la nostra radioascoltatrice, una che non guarda in faccia nessuno, schietta, nel linguaggio, una donna con grande personalità, eppure noi socialisti l'abbiamo proposta, ma non è passata, probabilmente non so cosa non garantiva, forse proprio le cose che diceva la nostra radioascoltatrice, la propria autonomia intellettuale, una donna che ha portato avanti battaglie incredibili e forse per questa ragione non andava bene al quadro politico generale, le forze politiche tutte, perché poi tutte non hanno manifestato un'adesione, questo senza nulla togliere a Giorgio Napolitano che, parafrasando come ha detto Berlusconi, una delle sue uscite un po' gogliardiche, quando dice meno male che Silvio c'è, in questo caso meno male che Giorgio c'è, perché solo Napolitano oggi è in grado probabilmente di assicurare, o meglio di imporre ai partiti politici la necessità di un governo per il paese, guardate non è possibile, dopo 60 giorni non c'è un governo, noi rischiamo di brutto, i problemi che abbiamo di fronte a noi sono quelli che abbiamo poi enunciato in questa nostra trasmissione, che sono problemi davvero serie, a me sembra che il Parlamento, mentre Roma discute, Sagunto viene spugnata, la Sagunto per quanto mi riguarda è la condizione di intere famiglie che vivono quotidianamente il tema di come produrre reddito, di come poter portare da mangiare e dare prospettiva ai propri figli e ai propri nipoti, allora credo che la politica debba mettere da parte le divergenze, le geometrie politiche e affrontare i temi del paese. Io ho una curiosità Paolo, ovviamente di tutt'altro genere, però siccome me ne sono occupato personalmente varie volte e ci siamo stati anche col Presidente Caradonna, le volevo chiedere Presidente, i lavori della piazzale antistante la metro di Rebibbia sono andati molto a rilento, complice credo anche il maltempo, però alcuni cittadini ci hanno segnalato e ci hanno detto, sono stati fatti dei lavori diciamo di conservazione dello status quo ma non di ripristino della situazione precedente, mi spiego mattonelle e tutto quello che doveva essere ripristinato sono stati praticamente livellati con l'asfalto, prevedo la risposta, è un problema di carenza di fondi per cui sono stati fatti cercando innanzitutto di ripristinare la pedonabilità diciamo, però si poteva fare altro oppure è stato un problema di urgenza? No, innanzitutto stabiliamo chi sarebbe opportuno che intervenga sulle aree esterne delle metropolitane, noi quando parliamo di metropolitane e di aree esterne è come se immaginassimo un cittadino che viene da fuori Roma, che viene dalla Francia, arriva a Termini, prende la metropolitana e esce a puntare Bibbia, come potrebbe uscire alle sette stazioni della metropolitana che abbiamo come quinto municipio, come quarto municipio o in qualsiasi altro quartiere, uscendo dalla nostra metropolitana, quella è il primo affaccio che si ha sulla città stessa, quindi se uno non esce da Termini non è che vede il Colosseo, ma deve arrivare in Tiburtina e quindi esce fuori e vede che cosa? Vede la città. Allora innanzitutto io ho posto un problema al sindaco e ad Atac, quello di gestire loro le aree esterne della metropolitana, perché sono dei luoghi che vanno messi nelle condizioni di poter rappresentare davvero le porte della città stessa. A questa mia proposta, che ovviamente impegnava dal potista delle risorse economiche, il Campidoglio ed Atac, visto che Atac gestisce i parcheggi a ridosso delle metropolitane, quindi intasca anche dei danari, a questa mia proposta è stato risposto picche, o meglio, non mi hanno neanche risposto, ma perché l'ho avanzata? Perché nei bilanci municipali, pur essendoci il centro di costo che fa riferimento alle aree esterne, non c'è un euro, nel bilancio non viene messo un euro. Allego per intervenire un anno fa nella stazione metropolitana di Tiburtino III, Santa Maria del Soccorso, abbiamo distratto alcune risorse dalla manuzione delle strade per poter mettere una pezza, come si dice a Roma, quindi ripristinando un minimo di pavimentazione. Sulla Bibbia non era possibile e noi grazie ad un finanziamento regionale, ma non regionale della Polverini, ma dell'aggiunta precedente, abbiamo utilizzato delle risorse in quel modo, ma erano risorse, come dire, quelle erano, non ce n'erano molte altre, lì bisognerà intervenire in maniera più legata al decoro che al ripristino della sicurezza. Sì, no, la sicurezza infatti no, è più una questione indubbiamente di decoro. Assolutamente, io mi auguro che il prossimo bilancio metta dei soldi su tutte le stazioni della metropolitana, sulle aree esterne, perché sulle aree interne la competenza è della metro, ovviamente. Ricordiamolo, certo. Ciao Maria del Sermine Paolo. Ringraziamo Ivano Caradonna per averci fatto compagnia in questa ultima ora di trasmissione in diretta, con me ci ritroviamo non domani, 25 aprile, festa della liberazione, quindi buon 25 aprile a tutti, ovviamente ci saranno le repliche, venerdì nuovamente in diretta, dalle 10, te alle 11, Marco Scordo lo salutiamo dalle 18 alle 19. Un ultimo saluto. Una battuta, innanzitutto grazie a voi, anche per questo clima di cordialità, fa davvero piacere venirvi a trovare. E poi se posso domani 25 aprile, domani mattina, così come ogni anno è mio solito portare delle corone in ricordo e in memoria dei caduti, a via del Peperino a Pietralata, domani mattina alle 9.30, alle 10 a via del Badile il ricordo di Caterina Martinelli e alle 10.30 dentro il carcere di Re Bibbia, nel nuovo complesso, dove c'è una lapide ricorda appunto i caduti. E queste sono cerimonie, non sono soltanto di testimonianza, ma anche di ricordo, essendo il 25 aprile, per quelle persone che sono state tante, che hanno messo a disposizione la loro vita per la nostra libertà.